Il più spiritoso è stato senz'altro il deputato della Sinistra Unita, Fabio De Masi, eletto in Germania, che ha chiesto a Juncker di scegliere fra tre dischi. Ma l'intera sessione di Bruxelles è stata dominata dal caso LuxLeaks, i documenti che provano il regime di maggior favore fiscale praticato dal Gran Ducato del Lussemburgo e dei suoi governi, compresi quelli guidati dall'attuale Presidente della Commissione Europea. La commissaria alla concorrenza Margrethe Festager dovrà verificare se ci sono state infrazioni e Giver Hofstad le ha chiesto a gran voce di sbrigarsi e concludere entro l'anno. L'opinione prevalente è però che così fan tutti. Pratiche elusive della fiscalità per le grandi imprese sono presenti in almeno sette paesi dell'Unione e se ne verrà fuori, come ha detto lo stesso Juncker, solo affrontando il problema di una armonizzazione delle norme e delle politiche fiscali. Il tema è spinoso, riguarda le grandi imprese ed alcuni colossi dell'economia digitale come Google e Amazon, che hanno una forza economica straripante e per la loro peculiare attività possono eleggere la sede fiscale per loro più conveniente. Pierre Moscovisy, il commissario incaricato di seguire il problema, ha detto ai parlamentari che verrà rispettata la roadmap prevista con l'armonizzazione delle normative fiscali entro il 2015. L'esperto francese ha ricordato che, dovendo ottenere il consenso degli stati, sarà cruciale per questa importante riforma il ruolo dell'opinione pubblica, dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. La decisa posizione di Juncker, che ha mostrato una determinazione inedita sull'argomento, forse dovuta anche alla necessità di discolparsi, è stata applaudita dalla vicepresidente del gruppo del PPE, Lara Comi, che chiede azioni concrete ed immediate per superare la situazione attuale, con 28 sistemi fiscali che si fanno una concorrenza spietata fra loro, ed arrivare ad un'autentica unione fiscale, altro importante passo verso l'integrazione politica. Su Juncker piovono le critiche degli euroscettici. Mauro Zani, del Movimento 5 Stelle, annuncia una mozione di censura da parte del gruppo dell'Eld. Noi presenteremo una mozione di censura e vediamo chi avrà il coraggio di seguirci con un atto concreto e chi invece preferisce le chiacchiere sui giornali e basta. Grazie. Anche la Sinistra Unita, con Gabriele Zimmer, ha attaccato duramente il presidente della Commissione, che è stato invece difeso a spadatratta non solo da Manfred Weber, ma anche, e questo era forse meno scontato da Gianni Pittella. Noi non accettiamo di indebolire la Commissione europea e il presidente Juncker appena eletti. Sarebbe un regalo all'euroscetticismo, all'eurofobia, sarebbe un regalo all'inazione, perché i nostri cittadini aspettano risposte e le risposte le possiamo avere con una Commissione forte e autorevole e con un presidente legittimato dalla volontà forte di risolvere e riformare questo settore. Complessivamente, il titolo Juncker, che nella settimana precedente sembrava vicino al ritiro per eccesso di ribasso, sembra oggi in gran salute. Per rispondere a De Masi, la canzone più adatta, sembra, resta con me. Non mi parte dal passato, non mi parte chi ti ha avuto, resta con me, con me.